Pamela Romanelli, componente del gruppo teatrale, oggi presenta un calendario, un ottimo modo per stare in compagnia di voi per 12 mesi, da come nasce l'idea? Sì, il gruppo teatrale sassanese Pasquale Petrizzo in realtà aveva quest'idea già da diverso tempo e solo quest'anno è stato possibile realizzarlo. Questo calendario nasce perché noi in realtà vogliamo trasmettere la nostra cultura e le nostre tradizioni e anche questo è un modo per fare questo, infatti all'interno del calendario sono presenti foto d'epoca che rappresentano proprio la nostra cultura. Infatti potrete trovare la foto di un matrimonio del 1910 oppure foto della vendemmia oppure delle processioni di santi che venivano fatte in maniera un pochino diversa rispetto ad oggi. Quindi un mezzo attraverso il quale trasmettere cultura, trasmettere tradizione, che poi è quello che è il nostro principio, infatti il nostro gruppo da sempre porta in scena opere teatrali in dialetto sassanese per mantenere vivo ancora il nostro dialetto così come c'è stato insegnato dal professore Pasquale Petrizzo che fondò il gruppo nel 1998. Quindi speriamo che sia un ottimo mezzo attraverso il quale portarvi un po' di sassano in maniera diversa. Vicino le foto addirittura qualche frase in dialetto? Sì, vicino ad ogni foto in realtà è presente un proverbio in dialetto sassanese che noi abbiamo estratto proprio dal libro del professore Petrizzo intitolato Così parlava Sassano ed è stato un modo simpatico per arricchire un po' il nostro calendario. Presidente della BCC di Sassano, Rosalefante, abbiamo la possibilità di presentare un calendario che accompagnerà per 12 mesi tutti coloro che avranno deciso di contribuire all'acquisto di questo calendario. Nasce l'idea di portare una tradizione sassanese a tutti quanti e la BCC di Sassano ha sposato questa idea e soprattutto con la stampa del calendario. Sicuramente questa è la prima edizione della presentazione di questo calendario da parte del gruppo teatrale sassanese Pasquale Petrizzo. Io sono profondamente grata a questa associazione perché porta avanti nel tempo quelle che sono le tradizioni, quelle che sono le memorie del popolo sassanese. Perché il professore Pasquale Petrizzo è stato anche il mio maestro, infatti alle scuole superiori è stato il mio insegnante di italiano e quindi ho avuto modo di conoscerlo. Quindi la tradizione che il professore Pasquale Petrizzo ha portato avanti, ha inculcato in questi ragazzi del gruppo teatrale sassanese, quindi merita l'apprezzamento di tutti. La BCC di Sassano ha fortemente voluto questa iniziativa, infatti è sponsor di questo progetto perché in un certo qual senso ci lega a questa presentazione del calendario un motivo abbiamo in comune qualche cosa che è quella della valorizzazione del territorio. Questo è un principio fondamentale che è sancito anche nel nostro articolo, all'articolo 2 dello statuto della banca di credito cooperativo che è quello appunto della valorizzazione del territorio.